Questa mattina nelle tribunali di Pesero si è aperto il processo a carico di Umberto Carriera, ristoratore pesarese nonché leader del movimento IoApro. Al centro del processo un episodio risalente al 15 gennaio 2021, ovvero una serata in cui Carriera mantenne aperto il ristorante La Grande Bellezza di Monbaroccio ribellandosi e contravvenendo agli allora DPCM di chisura anticipata derivati dalle normative anticontagio. Alla sbarra però Carriera non ci finisce per l'atto di ribellione ma perché nell'occasione furono filmati poliziotti in azione con immagini postate sui social che suscitarono una raffica di commenti conditi da insulti. Carriera e la compagna Clarissa Rosselli assistiti dall'avvocato Federico Bertuccioli d'oggi dunque rispondono dei capi di imputazione di diffamazione con l'aggravante di fatto commesso contro pubblico ufficiale nonché di diffusione di video audio carpiti in maniera fraudolenta. Quello che ci tengo a ribadire è che come sempre da parte mia c'è, c'è stato il massimo rispetto per le forze dell'ordine, credo che quel 15 gennaio 2021 abbiano esagerato, quattro posti di blocco per arrivare al ristorante La Grande Bellezza, 20 agenti che fanno irruzione a cena finita per un ristorante vuoto, mi sembra un'esagerazione e quindi ho ritenuto opportuno filmare quello che è accaduto. Senza dimenticare poi che lo stesso tribunale alle nostre spalle ha annullato le multe relative a quella cena quindi non è stato commesso nessun reato che tra l'altro è una sanzione amministrativa di 280 euro. Pubblicato il video i cittadini, il popolo italiano poi ha commentato quello che è accaduto ma io in questo non ho chiaramente alcuna alcuna responsabilità. È stata una prima udienza interlocutore in cui ci sono state due richieste di costituzione di parte civile dalle parti offese, vale a dire il commissario di polizia Paolo Badioli difeso dall'avvocato Carlo Rampino ma anche dai tre sindacati di polizia FISP, SILP e SIULP difesi dall'avvocato Andrea Latorraca. Il processo prevede per il 10 ottobre il conferimento in carico di un perito per estrazione di copie forense del cellulare dell'imputata Clarissa Rosselli che ha filmato l'azione dei poliziotti per valutarne una presunta alterazione. Le parti civile, commissario Badioli e sindacati hanno avanzato ciascuna un'analoga richiesta di 21 mila euro. Dopodiché il 5 dicembre il processo entrerà nel vivo con l'udienza dei testimoni, Vittorio Sgarbi compreso. Carriera si è detto comunque fiducioso sul decorso della giustizia così come sul futuro politico del movimento Io apro rinascimento. Io apro rinascimento ha avuto un ottimo risultato alle amministrative, nella vicina Civitanova Marche abbiamo raggiunto quasi il 12% come lista, mediamente siamo vicini al 3% in tutta Italia, ci stiamo preparando per le regionali in Sicilia e per le prossime politiche.